Buonasera Luigi Brugnaro, sindaco della Martoriata Venezia, che è collegato con noi. Caro sindaco, per chi come me segue le vicende dell'acqua alta a Venezia dalla fine degli anni 60, la memorabile campagna di Indro Montanelli dopo l'alluvione del 66, vedere che 50 anni dopo ancora ci troviamo in queste condizioni è veramente desolante. Perché? Perché siete in maniera così devastata? Intanto ringrazio direttore per questa opportunità per spiegare agli italiani il senso nazionale del ruolo di Venezia. Venezia non è soltanto una città che in questo momento è stata colpita, ma non vinta, da un'acqua alta è eccezionale, non sono le acque alte normali. Questa è un'acqua alta di 187 centimetri, quando nel 66 erano 194. Parliamo di 7 centimetri di differenza, praticamente la stessa acqua. È un'acqua eccezionale, è un'acqua salata che entra nelle case, entra nei negozi, supera le barriere che tutti voi conoscete e in maniera purtroppo devastante ha fatto danni incredibili e ha messo in ginocchio la città. Però io voglio raccontare agli italiani il senso dell'orgoglio italiano che parte proprio da città, da luoghi come Venezia. Il mondo ci guarda e la domanda che lei direttore mi sta facendo, perché siamo ancora qui, purtroppo non trovo in me una risposta. Abbiamo uno stato burocratico, abbiamo tutti che ci hanno insegnato. Io ero piccolo quando hanno immaginato. C'era Giorgio Lago, direttore del Gazzettino di quella volta, che si è fatto proprio protagonista, insieme a tanta intelligenza italiana e al Parlamento italiano di una legge speciale per Venezia. Purtroppo non siamo riusciti a tradurre le idee, i sogni, i progetti in fatti concreti. Manca tanto così. Io quello che posso dire soltanto è che voglio impegnarmi a fondo per fare quell'ultimo tratto, quell'ultimo miglio per finire queste grandi opere, perché ci devono assolutamente collegare col mondo civile. Abbiamo due mila anni di storia, dovremmo esserne degni. La cosa incredibile è che l'alluvione è del 1966. Comincia una campagna internazionale di stampa. Viene fatta nel 1972 la legge per Venezia, nel 1973 la legge per Venezia. Nel 1900 ci vogliono dieci anni per cominciare i lavori e nel 1983-2019 i lavori non sono.